effettivamente un bad clone si schiuderà e avrà dei punti di domanda come nome è un buon segnale e adesso però non deve essere chiamato togipi e vorrei aggiungere che quello che sta cercando di fare Wolf è assolutamente insano praticamente quello che fai è premere e mesciare fondamentalmente il tasto di cambio dell'arma e Wolf praticamente con tecniche da batterista riesce a premere il tasto dell'arma speciale quando sta sparando la lobby, l'arma viola che fa più danni in certe situazioni e io bova da caldo la prossima pista è la tua preferita? Parpass è una... ho sbagliato ho usato il linguaggio ok penso che questo sia un mai successo momento non ti ho mai visto sbagliare non so tu puoi giusto sennò riluppi vedremo un wall jump? ehm... piatto non si credo non si credo non si sai che non silver è al buio noi non abbiamo preso flash non lo useremo neanche se ce l'avessimo perché è molto lento quindi chiedo un attimo di silenzio Siamo pronti a affrontare Red con zero Pokémon? Cosa succederà? Abbiamo vinto! Ci provo! Qua c'è una skip molto difficile, se non la colpisco perdo un minuto. Proviamo, proviamo. Non sono piossi i casino se non va a buon fine. Ok, ho il pixel. Ottimo! Qui sono passato attraverso un altro del asporto nascosto. I triangoli. Quello è lo skip dei triangoli. Praticamente ci sono dei triangoli che... Io questo skip non l'avevo considerato. Io sì, perché ha funzionato. Ha funzionato. Ovviamente ho tirato giù l'albero con un salto. Però più importante, posso fare una cosa un pochino più spettacolare. Cioè, lo tiro su. Un pochino più spettacolare. La caduta delle cuffie. Non può essere accinuta. Un pochino più spettacolare. Un pochino più spettacolare. Un pochino più spettacolare. Un pochino più spettacolare. Fra évidemment. Veramente lento sto PC comunque eh. pei uguale? Ah... heißiré... Va bene... Va bene, va bene. E... In più c'è l'altro visionario che non abbiamo mai visto. Che morirà da solo con i fuochi d'artificio Non giocare con i fuochi d'artificio Perché può succedere questo anche Oh no! Oh no! Sì! Esatto Abbiamo schifato un paio di fuochi Allora ciao Ancora io sono Veytas Veloce divano Non so perché sia qui va bene Allora se vi state chiedendo come farò A giocare sappiate che io l'arancia e l'ho al cervello Quindi Ma è successo momento Qualcuno vuole provare a fare la salata? Facciamo il glitch in fretta Ma è prego Allora devi usare questo C'è stato un'altra schermata Ragazzi c'è un altro cambio C'è un altro cambio Il Michele 5 euro Parola mantenuta Also cambio Devi scambiare Devi scambiare No devi usare questo e devi usare Non la sigaretta di stream Allora devi usare questo e devi fare così così Devi cercare di passare dietro ma non si riesce a passare L'ultima cosa che voglio dire sarebbe una cosa molto importante a cui tengo molto Cioè Trans rights are human rights I diritti trans sono diritti umani E spero che tutti condividano Allora devi usare questo The end Eeeh Tempo